ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sullo spin off uncharted l'eredità perduta allora l'episodio 5 ma capitolo 6 il custodie vabbè non l'avete visto però nel precedente episodio sul finale quindi lo ripeto allora bisogna raggiungere principalmente nadine che se non è abbastanza giustamente incazzata con Chloe per un discorso comunque di affari e percentuali comunque nell'eventuale tesori trovati guadagno chiaramente allora eccoci qua come sempre sono già di fiordano vabbè devo vedere dove devo andare sperando di capirlo il prima possibile sembrerebbe vi sotto c'è lo scivolo di motavi vai calchi infatti va bene l'idea listitini puliti fai fortuna dove anche ma ovviamente li ha lasciati nel 4x4 allora dove ci va no divano no perci qui l'idea di qua penso sia la storia giusta arrivo e da un altro scivolo di moto la volta o ti spacchi più che altro rallenta rallenta devi rallenta ah bene già presi il cazzotto da bene i precedenti video da nadine appunto che quando è venuta fuori quest'osa vita per cui si è incazzata insomma si fa anche male a posto eh c'è da andare qui che ho visto le scale a posto proviamo di qua yes vediamo un po' cosa c'è qui dentro ah questo mi pare non fosse male 4 non fa mai male vieni qui mirare con c4 ok ah devo sfondare fai esplodere vediamo se li vedi stessi del mio vabbè ecco fatto si così l'acqua park scendi scendi la visto l'acqua park stavolta sembrerebbe che spaccarlo insomma estruggerlo vediamo se si trova classico bazzucone via lo vediamo sicuramente in realtà ci sono i più specifici ammazzato vabbè 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 capite serve a capire pesante oh si usa il c4 sappiccia salvi no infatti sono anche morte tra l'altro alle guardiamo un po' ora c'è più nulla tutto tranquillo c'è tanto lui lassù non ancora beh teniamo gli occhi aperti sono nascoste qui in giro non possono essere lontane ma che ma è ma se mi riuscisse non fammi vedere e là c'è qualcosa di strano bello vediamo un po' cosa c'è qui pistola silenziata e c4 e allora ecco c'è qua dov'è fai giù ritrovalo a parte vabbè si vede il gigante per noi mi domini dov'è sento rumori eccolo qui andiamo un po' vabbè mi dico no dio si subito allora lo devo lanciare a parte di essere un appicciato ce l'ho sempre regola si andiamo eh tu non vai a ripreserci 4 infatti eccolo qui vado allode buono ah un altro ancora ce n'è altri si vai vai ah attao oddio che buono pensavo scoperto no non c'è 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 4 però credo che ci siano altri diciamo casse di munizioni comunque almeno si dai di qua bene si ridentra ah vai guardaci dai oh ora si mori ora risparo capire devo dimorire oh vai via che ti ammazzano queste scelte bello di all'arepg l'hai preso ah che bello eccoci no 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 non voglio morire proprio buono 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 poi ah ci sono state anche le light ah ce n'è un altro ma la parte dell'altro neanche era il mato perché mi spari in queste io non l'ho cambiata l'arma dammi le light ladin tutto ok non riesci pronto può darsi ma non avremmo fatto niente con questi tutti in giro forza non c'è lui mi dà più mezzo ci si può ricariarci 4 non fanno male no ma ho fatto più però l'RPG sinceramente il bazooka in realtà non è un bazooka in realtà l'abbè è l'uncinissimo vabbè non c'è un po' di vai bene è l'uncinissimo è l'uncinissimo è l'uncinissimo è l'uncinissimo che ti dice l'avanti tra delle riflessi dei 15 che ho bene prima è una casa non non panace gatti ecco fatto prego comunque ma poi anche che ti ringrazio wow 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 Uuuuh Vabbè, almeno si è scusata, ha già qualcosa Che stai facendo? Mi assicuro che non ci seguono Non lo voglio Che diavolo combinano? Questi sono terponi, vedoci lì Vediamo di qua Bello, eh, però Fatti bene anche queste No, veramente fatte bene Anche quel riflesso Che mi prenda un colpo I re facevano entrare i loro sudditi da queste gallerie Cosa? Non abbiamo trovato l'ingresso Abbiamo trovato la porta di servizio Oh, vai Sembra un pozzo a gradini Non ti interessa Hai sentito? Sì, ora sì Guardate a noi Oddio Che cos'è? Qualunque cosa sia vicino Sì, effettivamente ma che cazzo è È un rumore più Semberebbe animale Un elefanti Un pittino Dumbo Guarda una cuccioletta Calma Calma Mi si libera Ehi, va tutto bene È intrappolata Ma non credo sia verita Cavolo, quelle esplosioni devono aver causato il crollo Calma, calma Sssh, va tutto bene Non so, sì, mi mancava Eh, un certo Del meno A memoria non mi sembra Siano state robe del genere Viene Facciamo, deve passare Bello, siamo sopra Pianite No È un vacanzo Vede Ok, allora Ma dove ci porta? Beh, dove vuole Ehi Te la chiorgo Vuoi assaggiare? Ispirazione Ma le mangi I veloci I vei frutti Lì A prese E mai mangia Lì, no? Chloé Ma queste sono poi Mi viene in mente Nessun frutto simile A qualcosa lì No, via Attiratene sì No, sono scimmie Ora non so se sono uguali A quelle di prima Quelle di prima Vienevano proprio terponi Però sono scimmie Sono sicuro Senti Io Non sono portata Per i rapporti Interpersonali Sei un idiota Egoista Detto papale Papale È vero Sono un idiota Egoista No Almeno Lo ammetti Beh Sentito papà In fondo Ho preso qualcosa Da te Che è successo Con tuo padre? Era il tipo di persona Che non si arrende Il ministero della cultura Si offrì di finanziare La sua ennesima spedizione Perché quella volta Diceva lui Aveva trovato Qualcosa di grosso Trovava sempre Qualcosa di grosso Ma I banditi assalirono Il suo campo E Le autorità locali L'hanno trovato Tempo dopo E questo Cosa è tutto ciò Che mi resta di lui Mi dispiace Oh No Aveva fatto La sua scelta Quindi? Senti Fraser Adesso Addio Che sta facendo? Che non mi sei incazzato L'elefante Vai Dumbo Che parlo elefantese? No Guarda No Addio Lo zio Ecco perché era così agitata Riguardo alla storia O erano i si spalla No Scherz 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 Andiamo Se il resto Dovesse andare male Almeno abbiamo riunito Una famiglia Che storia Bella fotina Stag senza filtri Il trofeo Cosa Gli elefanti Si accarezzano Grazie mille Non vedevo elefanti Da un pezzo Ma me li ricordavo Più grandi Probabilmente Sei abituata Agli elefanti africani Questi sono indiani Cosa c'è da prendere Prendi quello che ti serve Solito quando c'ho le casse Quelle di Insomma Le di munizioni Eh Pudiché C'è da sparare Tra un po' Vediamo un po' No me ne frega Classici 4 Si figlia 2 su 4 Si ricaria Il type 95 E Bisogna certà Ma ci si fa Boh eh Alla male muoio Fatti scherzando Perché ho certato Cioè Era palesamente Visibile Il fatto che Non ce la facesse Certamente Ho certato Comunque E Ok Qua ti va Alla strada Qua su Buongiorno Mi chiamo Signor Rimone Solo non cogliamo Vai Boh è da c'è le foto Guarda l'album Su Instagram Vai Eccoci qua Un teserino L'immancabile La mia torsia Va bene Guarda lì Ci voglio andare Anch'io Dai che colori A parte dove Sera Vai Guarda 2.000 tesori Travane 1 Travane 200 Mezzo secondo Ah Ah ok Ok Devo andare Yeah Pam Vai Non ce la fa Non ce la fa Pam Vai Ora si Arrivo Da risalì Da via Vai Scimietta Guarda In cima alle scale C'è una luce nell'acqua Capitolo 7 L'erdità perduta Tra l'altro Vabbè Tanto si sa Nome Dello spin off Che sia l'ultimo capitolo Punto interrogativo Capita tutti i giorni Di trovare una città nascosta Che nessun altro Vede da secoli Nessuno tranne Asav Nessuno tranne Asav E i suoi uomini E i suoi uomini Pronta Hai rovinato la poesia del momento Lo sai vero Sono pronta Via Via Dato che lei è pronta Io stessa video Concludo L'episodio Qua Allora Questo qua Che avete visto Come ho detto in inizio video Il capitolo 6 Il custode Si chiamava così Anche si chiama così Niente Siamo arrivati qua Al settimo capitolo Ok O me lo cei parlato Mi manca le cose Mi manca Il tiato Vabbè Siamo arrivati al settimo capitolo L'eredità perduta Come ho detto prima Che sia l'ultimo Quindi Sia per un discorso di durata del video Perché non so se avete notato Ma i video precedenti Sono durati anche troppo Sia Per Eventualmente Fare Un video proprio Con il capitolo finale Se questo dovesse essere l'ultimo Insomma Direi di concludere l'episodio qua Quindi Come sempre Prima di concludere Vi ricordo di mettere Il bene a fare Se volete Le solite delle cose Ovvero di mettere Un bel mi piace al video Se vi è piaciuto Di condividerlo E poi Di iscrivervi al canale Perché ripeto sempre È una cosa più importante Per rimanere aggiornati Sui eventuali caricamenti futuri E niente Detto questo Vi saluto E vi aspetto Nel prossimo episodio Via Detto questo Alla prossima Ciao 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 Ciao